Salve a tutti Blazers e bentornati in Assassin's Creed Syndicate Ragazzi siamo arrivati alla quarta puntata e nella terza puntata abbiamo cominciato a esplorare quel di Londra Nella quale puntata abbiamo fatto queste missioni secondarie Intanto vediamo che siamo alla sequenza 3 e al 4% solamente del gioco Che si pronuncia molto lungo, comunque facciamo continua Mentre parliamo lasciamo caricare il tutto E abbiamo appunto fatto queste missioni che penso siano le classiche missioni secondarie della serie E io non farò le missioni secondarie, nel senso che voglio portarvi la storia Voglio portarvi le cose interessanti Quindi le missioni secondarie probabilmente me le giocherò per conto mio In questo caso specifico sembrano comunque, anche se secondarie, indispensabili per il proseguimento della storia E quindi le stiamo completando Vi ricordo che erano 4 missioni per liberare la zona di Whitechapel E ce ne mancava una sola Detto ciò, caro il nostro Jacob Guardate che altezzoso il nostro protagonista Stiamo caricando la mappa Ok ci siamo Forse Altri caricamenti Vabbè ok, ho appena aperto il gioco ragazzi È normale ci si metta un po' Comunque eccoci qui Vedete la missione conquista Whitechapel Abbiamo 3 su 4 Possiamo reclutare anche questa gentaglia Che potrebbero diventare i nostri alleati E dobbiamo proteggere il passante In che modo? Guida Che devo fa' Vi devo Picchiare tantissimo? Ok Picchiamoli tantissimo Va' Aia Perfetto Sì era un evento di quelli casuali Del Diciamo gli eventi folla Quindi non era la missione Allora ragazzi Datemi un secondo Per riprendere confidenza Stai entrando in una zona dati instabile Cioè Ah qui finisce la mappa Va bene Proprio qui dovevo andare Vabbè Scendi Jacob Vai Di qui un attimo Volevo un attimo mettermi in tranquillità Quindi non lo so Mettiti qui e basta Allora dicevo Nel mentre passa un treno Questa cosa è molto figa Perché per esempio Ti puoi Puoi saltare giù Andare sul treno E spostarti per la città Così Dicevo Per l'appunto Datemi un attimo Per riprendere anche Confidenza con i controlli Perché le prime tre puntate L'ho fatte tutte di fila E poi con il games week di mezzo Ho mollato un attimo E buttarmi giù Vorrei farvela vedere un po' Forse Forse in questa zona Vedete la missione La missione è ad un orario preciso Ma se è solo una bambina Ma se è solo una bambina In cambio di un piccolo favore Certo ovvio Avete già preso quasi tutti i miei soldi Chiedeteci anche un piccolo favore Ma già è vero che l'hanno derubato i bambini Questa è una situazione storicamente conosciuta Purtroppo Che schifo Ma dai Perché queste cose La stretta di mano con lo sputo Io non l'ho mai fatta in vita mia Non so voi Nel caso ditemelo nei commenti Ma è una cosa che È detestabile Per quanto mi riguarda E Devo raggiungere il magazzino Ok Quindi non era solo una missione così Per parlare Pur parler Diciamo Sì comunque Queste quattro missioni Che stiamo facendo Sono sicuramente Introduttive A una sequenza Di missioni secondarie Intanto saliamo Da questi tetti Vi vorrei far notare Che Le texture Di queste case Sono veramente fantastiche Mi piacciono un sacco C'è una cura Pazzesca Nel dettaglio Diciamo In primo piano Mentre È un po' carente In lontananza Cioè se tu guardi lontano Vedi i modelli In modo molto più elementare Il che è normale Perché la mappa è enorme Però Non so Magari sui pc Quelli un po' più potenti Il gioco gira Decisamente meglio Allora si può anche godere Di una Visione In distanza Ancora migliore Allora Uccidi il capo squadra Libera tutti i bambini Non far suonare L'allarme Come missione Secondaria Allora Vediamo Ok Quello diciamo È il nostro nemico Che dobbiamo uccidere Quindi magari Facciamo Bam E non ti fare vedere Ok È stato un approccio Un po' Poco stilt Poco d'assassino Però Efficace sicuramente Ora saliremo sul tetto Vero Perché non Non stai salendo Che succede Bravo vai Probabilmente Ci sarà Un'entrata Anche da sopra Perché L'edificio è su più piani Centrato in un territorio Dei blighters Merda Mi hanno visto Mi sa che mi hanno visto Sali qua Ora questo farà il giro Quindi posso andare da qui E ucciderlo Giusto Vai Molto bene Rifacciamolo Vai qui Tanto sta piovendo Ovviamente Londra È conosciuta Per essere Una delle città Più piovose D'Europa E quindi ci sta Bello Mi piace Come atmosfera Allora Abbiamo ucciso Questo tizio Scendi giù Intruffolati Ancora non mi ricordo bene i comandi ragazzi Portate pazienza Però non sto andando male Dai Penso che Me la sto giocando bene Allora qui Abbiamo un altro scrigno Seta in metallo Ingredienti per crafting Evidentemente Vai con il cappuccio Va Eccolo lì Il nostro obiettivo Come ci arriviamo di lì però Capo I cappi sono personaggi importanti E sono più forti Degli altri nemici Uccidili furtivamente Per spaventare nemici vicini Il che ci sta Perché tu uccidi il capo E i suoi Schiavetti Si cagano in mano Uccidi furtivamente il capo E di una zona Per seminare il panico Io vorrei farlo furtivo Ma tutto sta Nel come farlo Perché alla fine dei conti Però aspetta Si qua c'è un'altra apertura Quindi forse potrei Cercare di scendere da qui C'era della TNT Ho qualcosa di esplosivo lì Vero? Eh si L'ho visto solo dopo Ehm no Devo trovare Una tattica migliore Ah sta tornando lì Quindi Aspetta Quando si avvicina Li posso sparare Come quello della scorsa puntata No? Li spariamo E lo uccidiamo così Mi ha visto Merda Perfetto Ehm Allora Si combatte La furtività è andata a puttane Aia Rompili la guardia Vai Bella Ok Schivalo Ok La visuale però non aiuta La visuale Non mi sta aiutando per niente Dai che ce la facciamo Dai che ce la si fa Ok uno è andato Cosa fa questo? Stava chiamando I soccorsi Si sta chiamando i soccorsi Ok uccidila Bene E ora lui Perfetto Deprediamolo anche ragazzi Perché ha munizioni Bomba fumogena Molto bene E ormai Mi sa che l'allarme Cioè l'allarme non è suonato in realtà Quindi siamo ancora In furtività Grazie signore E i bambini sono liberati Solo che ce ne sono nove Quindi ci saranno presumo altri due gruppi Scendiamo giù Scendi Jakob Scendi Grazie Lì c'è un altro nemico Quindi potremmo ucciderlo dall'alto In questo caso Direi di si Mi ha visto Mi ha visto Non mi vede più Ok dai E' fatta Penso Sono qui per aiutarti Grazie Perfetto Andate E c'erano quelli al piano di sopra No? Dove sono i bambini? I bambini Per dio Non toccate i bambini Libera i bambini Bene E' fatta Grazie signor Fri Sapeva già il nostro nome Com'è possibile? Ok Liberazione bambini Completato Ci sono quelli Della nostra banda alleata Che non ricordo già Più il nome Comunque Ok La zona di Whitechapel E' completata Quindi adesso Che cosa succede? Guerra fra bande Disponibile Quindi Se non ho capito male Capo della banda Rexford Kaylock Attivo Ok Quindi tu praticamente In ogni area Risolvi queste Cinque Quattro quest Una volta che Una volta che l'hai fatto Si attiva la Quinta quest Che è lo scontro finale Per contendersi La zona Quindi adesso Noi Andremo Verso questo Punto di interesse Che Non di qui La mappa Ce l'abbiamo qui Si trova qua Quindi Abbiamo messo Il segnalino E si va Da questa parte Quanto è lontano? 145 metri Va bene Ce la si fa Sali di qui Bam Tetto Guardate Mi piace un sacco Il dettaglio Di queste pareti Oltre Al di là Delle texture Che ci stanno Proprio I modelli La profondità Il dettaglio No? E' figo Mi piace un sacco Devo dire Anche sti tetti Qui tutti marciti Non lo so Mi piace Allora Dai 110 metri 100 metri Questa Scena Ve la tengo Ancora Così Vediamo un po' Insieme la città Anche se Magari Mi converrebbe Andare Dal basso Scendi un attimo Giù La gente Non dice Assolutamente Nulla Di tutto ciò Prendi oggetto Ma ce li hai regalati O li li ha rubati Non ho capito Cioè tu premi R1 Sui bambini Ti danno le cose Ah forse perché Li abbiamo liberati Adesso sono nostri amici E quindi Giustamente Loro Insomma giustamente Loro rubano Alla gente in giro E poi ti danno a te Le cose se vuoi Penso sia una cosa del genere Vi recuto Venite con me Anche tu Ti fai reclutare No Ok Voglio proprio avere La banda Per fare questa missione Ok Guerra Fra bande Livello suggerito 2 Gioca Passa ancora il tempo Va bene Quindi si terrà A che ora Sono tipo le 5 passate No è E si è in realtà Cioè ciò che vi separa da Whitechapel È il cattivo di questa zona Kaylock ti sfida per il territorio A uno scontro fra bande Mi incauto Tieni Suppongo che ne farai un uso migliore di me Un regalo per me Credi? Uuu figa È già arrivato Natale Molto bella Come arma Raduna i tuoi Raduna i tuoi Lo stavamo già facendo In realtà Quindi in questo caso Non è un assassino È proprio Tu che Prendi gente Vai lì E si Partono I pestaggi Peggiori del mondo Tipo I bimbi minchia Che vanno Alle giostre A picchiarsi Avete presente O almeno Qua a Milano Ci sono tutte le bande Di bimbi minchia Che vanno Alle giostre Si menano Così Perché sono stupidi Potenzialmente Abilità Eccetera Eccetera Sì Vorrei riprendere il gioco Però Bello Tutto molto bello Continua E mi riporti qui Vabbè Sono costretto a farlo Quindi Vabbè Allora Facciamolo insieme Facciamolo insieme Abbiamo Combattimento Furtività Ecosistema Io Sinceramente Non ho ancora fatto In tempo A controllare Tutto ciò Allora Aumenta la salute Di un segmento Aumenta il tempo Necessario Per interrompere Una combo Quando la combo Arriva a 10 L'attacco successivo Porta subito Il bersaglio In stato di agonia Che non è male Allora Intanto farei la salute Assolutamente Perfetto Vediamo anche Furtività Abbiamo i Chiavistelli Per forzare Gli scrigni Che si può fare Poi abbiamo Rapire un nemico Inconsapevole Costringerlo A camminare Con te Potrai accedere Alle zone Evitate Senza Nasconderti Depreda Automaticamente Nemici Quando gli assassini Stordisci Rapisci O esegui Occisioni multiple Questo mi fa Comodissimo Lo faccio Subito Perché Se no Si perde troppo Tempo Doppio assassino Un classico Cioè ragazzi Ve lo avevo detto Anche nelle prime puntate Che mi serviva Quindi facciamolo Molto bene Poi abbiamo Ecosistema Premi R1 Per ordinare Rux Di seguirti Poi ci sono i comandi Avanzati Per farti accompagnare Al massimo Da due Rux Alla volta L'occhio L'occhio dell'aquila Ti permette di vedere Attraverso i muri Comodo Trovi più materiali Comuni Da ogni fonte Allora inizierei A fare questo Quindi un occhio Dell'aquila Più potente Che sicuramente Ci farà comodo E abbiamo raggiunto Il livello 2 Ecco così Penso che Sblocchiamo la missione E poi Abbiamo altri Tre punti Da spendere Quindi iniziamo Con i chiavistelli Bene E poi Salute Facciamo ancora La salute Così diventiamo Già dei bei tank E facciamo I grossi culi Detto ciò Mi fai Mi fai Continuare Armi Ah no Mi fa vedere Anche le armi Qui possiamo comprare Tutte le varie armi Tipo Manette di ferro Quindi tirapugni Che ci stanno Un sacco Bastone Animato Da Da nobile Sciccheria Incredibile Bastone Animato Da iniziato Tirapugni Da iniziato E il Cucri Ecco come si chiama Davorio Molto bella Quest'arma Mi piace un sacco Cucri di ferro Beh io per il momento Terrei questa Cioè equipaggiala Ce l'abbiamo già Basta Riprendi Ok ci siamo ragazzi Il signor Rexford Keylock Ha accettato E vi attende Alla stazione Di Whitechapel Ha puntato il treno Sullo scontro Ha puntato il treno Sullo scontro In che senso No ma proprio Abbiamo anche La carrozza L'invito ufficiale Cioè stiamo andando A menarci Tra bande Ok Pazienza Ok Molto bene Andiamo a fare I grossi puli Vai Iniziamo da lui Con questa arma Si vince facile Ragazzi Ci metti niente A uccidere Nemici Guardate Bam Subito fatto Qua ne arriva un altro Che succede subito? Il Big Boss Eccolo qua Penso Scappa in treno E io ti inseguo Cosa pensi di fare? Bella Ci siamo Ehm Fallo fuori Non si possono Semplicemente Tipo buttare giù Questi Sarebbe comodissimo No? Bella Vai Rompi la guardia Buttalo giù Vai Prima che arrivino Gli altri A rompere le scatole Eccolo il Boss Eccolo Vai Bon Fai fuori questo Prima Anzi Non è lui il Boss Questo è tipo Uno scagnozzo grosso Ci assomigliava però Allora tu vai fuori dalle balle Tu rompi la guardia Tesso sinistro Anche se in realtà ti sto macellando con questo Cucri Bam Ciao Emo si va E' l'ora della resa dei conti Vai Minchia questo c'ha una vita Incredibile Quanto Quanta vita c'ha Però non sta rispondendo ai nostri attacchi Ecco appena ho parlato L'ha fatto Dai che ce la facciamo ragazzi Ah ce la facciamo easy mi sa Si ha tanta vita però Siamo più forti noi E Non riesco a schivare i suoi attacchi Perché sono tipo Straveloci Ecco Ancora Bastardo Dai Ora attaccherà No Vabbè ciao Così è morto Ok non me l'aspettavo neanche Bella Whitechapel è nostra Suppongo Uh il rampino No Finalmente Ragazzi questo è il rampino Che c'è nel gioco Lo usi tipo Ti aggancia il tetto E voli su in un attimo Non so come si utilizzi Però Mi sa che è una figata Quindi ora Abbiamo conquistato Whitechapel Abbiamo risolto Queste Queste Secondare Più o meno Che cosa succederà Io non vedo l'ora Più che altro di Addentrarmi nella Storia Proprio principale Del gioco Che è la cosa che Lo sapete Se avete seguito La serie di Di Unity È la cosa che più Mi interessa Una spilla Templare Ora Keylock è morto Whitechapel non sarà più Nelle mani dei Blighters Ora avete l'occasione Di unirvi ai nostri ranghi Ecco bravi Venite con noi Che siamo forti Ci stai? Ti unisci? O perisci? Si uniscono Penso di sì E che cazzo di bandiere Che sono sti qui? Benvenuto nei Rooks Lui Già li chiama Rooks Ma Cioè ma Da quando Si è deciso Che sono tutti Rooks Questi? Preferirei buttarmi Sui binari Che guidare Berta Un altro miglio Per quel maledetto Che succede? Keylock È rimasto a piedi Bene Ciao signori belli E chi sareste Sono Ivy Fry Mio fratello Jacob Fry Piacere Sono Agnes McBean Piacere Stavo per avere una promozione E ora sono senza lavoro Lavora per noi Ma fatemi il favore Pagate noccioline? Beh se le preferisci Ai soldi veri Allora vi presento Agnes e Berta Dama e locomotiva Al vostro totale servizio Ah perché era il treno Di quello Di quello stronzo lì Ma che figata Veramente Sì è andato tutto Alla grande Ora Vorrei seguire una traccia Per Jacob Sì serio Lui è troppo È troppo un grande Jacob Forse conosco qualcuno Che può aiutarmi Pensa sempre a divertirsi Così Ah nero certo Grini Troppe cose insieme Ragazzi Cioè Noi abbiamo Abbiamo fottuto Covo Su un treno Cioè Ho un treno mio Che al momento è fermo Suppongo Sì infatti Cioè ma sta cosa è fighissima Quindi fatemelo esplorare Un po' Cioè È bellissimo Anche dentro Fa molto Molto Londra Di quell'epoca Questo stile Sul vittoriano Diciamo Vabbè Ok Di qua È finito Di qua C'è la tizia Lì Comunque C'è la propria Spattuta In faccia Così di cattiveria Ciao Sono stata licenziata Bene Ti assumiamo noi Sì ma Di cosa state parlando Così Devo dire che avere un po' di soldi Fa la differenza qui Si possono cambiare molte cose Con la borsa piena Ok Interagisce con la cassaforte Per raccogliere la rendita Quindi questo treno Ci frutterà anche dei soldi In qualche modo Non penso che faccia servizio A dei clienti Chissà se è possibile Tipo potenziarlo Perché adesso abbiamo La locomotiva Con tre carrozze Che è comunque Figo E però È abbastanza corto Come treno Magari ci sarà la possibilità Di ingrandirlo Allora Comunque Interagisci con la cassaforte Era qui Molto bene 500 Su questa mappa È segnata gente utile Ma chi amici Diciamo Tu vedi di allungare loro Qualche manciata di sterline E forse potresti impedire Che tanti di noi Finiscano male Prima del tempo Ok Quindi su quale mappa Di qui Sono Altre missioni secondarie Ah potenziamenti banda Ah ok Affiliato Mercato del mondo Delle medicine Puoi acquistare le medicine Nei negozi Usa le medicine In combattimento Per recuperare la salute Però le dobbiamo Sbloccare noi Investire in questo potenziamento Beh Direi di sì Truffatore Le munizioni costano meno Poi abbiamo Proprietario di pub Acquista i pub Con la rendita Del treno Di 500 sterline Ogni 30 minuti Carrozza La popolarità Delle carrozze Growler Aumenta Cercane altre In giro Per Londra Piccoli rux Insomma Ci sono Un macello Di cosa Mazzette Alla polizia Addirittura Poi vabbè Potenziamenti Per i rux Vari Addestramenti Rux Ok Acquista Carrozze Per i rux Ora sono Di livello 5 Premi Questo Per potenziare Rux Addirittura Magari Questo Lo facciamo Subito Vabbè Dai Fatto ciò Ora basta Parlare Il signor Green Ha detto Che voleva Incontrare Qualcuno E certo Quindi Lo Lo facciamo Così in automatico Pensavo di Dover andare Io Ok Quindi abbiamo Preso sto Rampino Andiamo Ad incontrare Persone Che non so Chi sia Qualcuno Probabilmente Un inventore Un personaggio Storico E Potenzieremo Anzi Aggiusteremo Questo rampino Che ci sarà Molto utile Suppongo Nel Mentre Il nostro Covo Se ne va Così South Perk Libertà Di stampa Capo Della banda Ok Quindi è un'altra Diciamo Missione Per liberare Questa zona La prossima Zona Che dobbiamo Liberare Mentre qui Cosa abbiamo Attività Alleati Oggetti Da raccogliere La cripta Di Reuge Nora La sanguinaria Vabbè ci sono anche le cripte Vabbè buono a sapersi Guanti Commenti Qualsiasi cosa aiuta Per il mantenimento Della serie E detto ciò Io vi saluto E ci vediamo domani Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti